Samuele, benvenuto alle prime impressioni da nuovo giocatore della Ternana. No, grazie, ho trovato un bel ambiente, sia compagni sia staff, è una società molto organizzata e i compagni mi hanno subito dato un benvenuto mettendomi subito all'interno del gruppo. Quindi per adesso i primi due giorni sono andati molto bene e sono molto contento. A che punto sei della preparazione, ovviamente, ti sei allenato da solo prima di arrivare a ritiro qui a Cascia? Sì, sono un po' dietro rispetto agli altri perché sì, mi sono allenato solo ma non è la stessa cosa di andare in un ritiro e allenarsi in una squadra. Ora con lo staff farò in modo di tornare il presto possibile al 100%. Sei una punta centrale, hai giocato sia a due che a tre, cosa preferisci? No, non c'è un modulo che preferisco, mi trovo bene sia a due che a prima punta a modulo 4-3-3, quindi tutti e due mi vanno bene. Oggi un test in famiglia, probante comunque, si sono affrontati due squadre di serie B. Sì, sì, è stato un bel test, abbiamo spinto tanto e penso che abbiamo fatto un buon test a livello sia tattico che fisico, quindi penso che il mister può essere contento. Come ti sei trovato? No, mi sono trovato molto bene, come ho detto anche prima, i compagni ti aiutano tanto e quindi questo è importante per un giovane per il primo anno in serie B. Come ti sei trovato oggi in questo test? Mi sono trovato un po' di fatica, l'ho sentito un po' verso la fine, però è normale, siamo in ritiro e c'è da caricare. Grazie. Grazie a voi.